Venerdì 18 novembre lo spettacolo Come vivo acciaio inaugurerà la stagione teatrale 2016-2017 del Teatro Politeama con la direzione artistica di Filippo Annaro. Lo spettacolo con protagonisti Andrea Bosca ed Elisa Galvagno è presentato dall'Associazione La Ginestra. Intanto vi presento i principali protagonisti Fulvia e Milton, sono di fatto tanti i personaggi di questo spettacolo teatrale che andrà in scena venerdì prossimo 18 novembre qui al Cineteatro Politeama di Caltagirone dal titolo Come vivo acciaio. È appunto un racconto tratto dal romanzo Una questione privata di Beppe Fenoglio, un personaggio che magari i più sconoscono, ignorano con me per primo. Allora intanto iniziamo con lo spiegare che cosa sta a indicare Come vivo acciaio. Come vivo acciaio è il titolo della nostra riscrittura, il nostro testo teatrale parte da Fenoglio, una questione privata, ma poi lo reinventa, lo trasforma e ci è venuta in mente un'idea. È una frase che viene detta alla fine della storia, del romanzo, ma poteva essere adattata per esempio anche al cancello di fronte al quale Milton riceve la sua ferita d'amore, perché lui è convinto che Fulvia lo ami e invece forse non è così e deve sapere la verità su questa storia. Quindi questo cancello diventa la sua ossessione, questo amore diventa la sua ossessione e questo cancello si trasforma poi nella collina, nei posti in cui si imbatte e diventa insomma tutta la parte delle location, degli ambienti in cui Milton fa la sua ricerca privata. Ovviamente lui è Andrea Bosca e adesso Fulvia che invece è Elisa Galvagno, questa donna che dunque fa innamorare tanto Milton, ma mi hanno dato così qualche accenno. La storia risale al tempo della Resistenza, ma le storie d'amore hanno come dire un riferimento storico o le storie d'amore sono tali e basta? La nostra scelta di questo testo è che parla tutti sia nella forma del libro sia nella forma speriamo del nostro spettacolo, è proprio perché la guerra lo pone così nel tempo ma non lo connota forzatamente, quindi chiunque ci si può identificare. Lo dicevamo oggi con i ragazzi della scuola che sono venuti a vedere il lavoro di montaggio, che la questione affascinante è proprio che questa questione privata è la questione privata di tutti noi ed è sempre presente e ci può interessare dagli anni 40 al 2016 e credo anche in futuro. Si parla d'amore soprattutto, ma anche di gelosia, questo è come dire il tormento di Milton. La gelosia è sinonimo di amore, che cos'è la gelosia per Andrea Bosca? Innanzitutto un'ossessione molto profonda, poi la cosa che ci interessa è che la gelosia è un tratto comunque molto forte dell'umanità e nell'umanità che noi raccontiamo ci sono sempre dei chiaroscuri. Innanzitutto non aspettatevi di vedere soltanto Milton fatto da me e Fulia fatto da Elisa perché noi ci scambiamo i ruoli, quindi l'umanità è sempre interscambiabile. I buoni a un certo punto diventano cattivi, i cattivi diventano buoni o magari qualcuno che fa qualcosa a livello eroico diventa poi meschino. La gelosia è una spinta a sapere. La cosa interessante di Milton è proprio il fatto che, e ci accomuna tutti, che quando noi siamo veramente interessati a qualcosa, ci mettiamo il cuore, poi siamo persi se non sappiamo come quella cosa va a finire. E quindi da lì inizia il motore di tutta la ricerca di Milton. Ed è uguale a tutti noi, quando una cosa ci interessa e vogliamo andare fino in fondo, e Milton cerca di andare fino in fondo. Lo spettacolo coinvolge le scolaresche, ci sono dunque dei messaggi educativi, formativi. Qual è il prioritario che auspicate venga, insomma, capito dai giovanissimi? Forse la questione di andare in fondo alle questioni. Quando si vuole, si ha bisogno di sapere, di inseguire, che sia un sogno, che sia un bisogno, che sia una curiosità, andarci fino alla fine senza esitare. E poi speriamo che lo spettacolo porti i ragazzi, almeno la curiosità di conoscere un autore che magari qui è un po' meno letto, ovviamente, per questioni naturali. Territoriale, campanilistica. Allora, vogliamo ricordare quali sono gli appuntamenti della compagnia Dramelot, oltre al 18? Il 17 mattina abbiamo sempre una replica scolastica qui, il 18 mattina, il 18 sera, il 19 siamo a Gela e il 21 terminiamo ancora qui per le scuole, sempre a Caltagirone. Bene, complimenti. Grazie, è stato un grande piacere, speriamo di poter tornare ancora in Sicilia. Noi siamo aperti a una prossima tournée che coinvolga tutti i grandi centri, siamo felicissimi di poter portare a una questione privata, cioè il nostro Come Viva Acciaio in Sicilia.